Senz'altro fare arte in questo contesto è qualcosa di particolare, perché non sempre si fa pittura come si dice en plein air, cioè in mezzo alla natura, ma permette agli artisti un po' di uscire dalla propria zona di comfort, quindi dal proprio studio, e essere appunto contaminati dal passaggio delle persone che si fermano a chiedono, dal verde. Il pianoforte che ispira anche l'arte visiva, per la prima volta naturalmente pianoforte, Festival Anima del Casentino, una residenza artistica ideata da Chiara Cardini, critica d'arte, che coinvolgerà una decina di artisti provenienti da tutta Italia, che creeranno colorati vessilli fittorici di diversi formati negli spazi del Festival Prato Vecchio. Abbiamo deciso di invitare dieci artisti che si occupano di arte visiva, quindi arte figurativa, contemporanea, a raccontare l'esperienza che il Festival offre e lasciarci suggestionare dalle persone che abitano questi luoghi, dall'ambiente e soprattutto dalla musica del pianoforte, che volando nell'aria ci ha fatto pensare che anche i colori potessero essere qualcosa che testimoniasse il tema della resistenza e di un pensiero di libertà. Perché questo? Perché abbiamo deciso che non fossero semplicemente quadri con una cornice, ma fossero degli standardi, come in passato esistevano cortei civili, cortei religiosi, processioni, in cui si sventolavano delle bandiere. Ecco, magari gli artisti visivi non saranno proprio degli alfieri esperti nell'arte del gioco della bandiera, ma potrebbero essere degli alfieri portatori di un pensiero di libertà e di comunità. Una volta che le opere degli artisti in questo contesto del Lungo Arno saranno terminate, verranno affisse sulle strutture e creeranno proprio dei vessilli che verranno trasportati a mano dagli artisti all'anificio Berti, dove si costruirà una mostra Work in Progress, che quindi prende vita in questi giorni. Inoltre un artista ha deciso di donare uno dei suoi lavori a uno degli sponsor del Festival. Grazie a tutti.